La coppa, la coppa, la coppa, raga, la coppa! Oh mio Dio, non si posso credere! Eh, eh, la coppa. No, era solo un sogno, raga! Però oggi ci voglio provare. Voglio provare a vincere la Super Coppa. La Sud America Cup. Secondo voi, bella pazza, riuscirà a vincerla? Rimanete fino alla fine del video per scoprirlo. Ok, ragazzi, allora, abbiamo un sacco di cose da fare. Allora, Daily Prizes, vai, che abbiamo logato, quindi 25 carte di Pietro che non si servono a nulla, ma va bene lo stesso, eh. Poi, qua ragazzi, sono un pochettino di cose da prendere. Allora, pacchettino bello fresco, uh, belli calzetti nuovi, eh. Golden Shot 2, va benissimo. Poi abbiamo Uruguay Elite, i calzoncini, ok. Poi direi che ci scioppiamo. Gustav, andiamo avanti. Altri pacchetti freschi, altri pacchetti freschi, raga, che non troviamo mai nulla, assurdo. In sti pack non si trova nulla, cioè, potete mettere delle cose un pochettino più carine, eh. Allora, attenzione, c'è noodle. Noodle che continua a salire, eh. E non sono i noodles da mangiare. Pacchettino bello, no, pacchettino brutto è stato, eh. Allora, vediamo un attimo. Una nuova esultanza. Drop its light is caught, ok. Mamma mia che pronuncia. Calzoncini del Venezuela. Un altro pack dove non c'è nulla. Un altro pack dove non c'è nulla ancora. E attenzione, l'Avatar Sud America. Bellissimo. Allora, andiamo a mettere un po' di cosine, raga, eh. Vediamo. Abbiamo anche delle missioni. Premio goal. Mamma mia, vai. Vai, che tanto non troviamo nulla. Allora, dove era? Eccola. Top. Allora, mettiamo anche il nuovo stemma. Dov'è, eh? Anche questo è molto bello con queste maglie, comunque sia, eh. Raga, non trovo lo stemma. Non lo trovo, come si chiamava? Raga, comunque dai, teniamo questo stemma, che carino, eh. Allora, torniamo indietro, raga, e direi di giocare la coppa. Voglio giocare la supercoppa, raga. Mancano 54 giorni, ma a noi non ci importa. Siamo in semifinale contro il Chile, raga. Let's go Italy, forza. Anche se di Italy oggi non ho nulla. Brasile, 864. C'è nemmeno la maglia dell'Italy, ho. Ho la maglia dell'America, raga. Però, ovviamente, la coppa Sud America, quindi... Ok? Allora, Brasile. La nostra superformazione. Chile? Eh, Samba King 84, raga. C'è, tutta la formazione da 70, 75, un attaccante da 80. Vabbè, va bene, va bene lo stesso. Ti divoro, oh mio Dio, subito. I brividi. Allora, Spisi sta giocando... Ma che è il numero? Spisi, raga, sta giocando molto bene ultimamente, eh. Non è da sottovalutare per niente? Sì, 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 guardalo. The Dremble! Non ci fa sognare stavolta, piglialo. Bravi. Sium? Il Sium! Palo! 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 Boom! Fenomeno, raga. 1-0. Super meritato. Subito un palo contro il Chile, che è fortissimo, raga. Mamma mia. Ha una formazione da urlo, sto qui, eh. Sium Supremo, ovviamente, non la passa. Samba. Palo. Giusto così. Palo mio, palo suo. Solamente che lui adesso non deve fare gol, eh. Giustissimo così, raga. Giustissimo. Non si può sempre fare gol, non è giusto. Attenzione! Mamma mia, che razza di giocatore, raga. Mamma mia, Spissi ha dato una palla incredibile, assurda, raga, al fenomeno. Guardate che roba, mamma mia. Andiamoci a pigliare sta coppa. Mamma mia, raga. Se questo... Uh, che fallazzo. Se questo, raga, avrà 100 livelli in più di me, ma ne vogliamo parlare? No, 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 no. Davanti alla porta. Fuorigioco non esiste in sto gioco, eh, se... Raga, guarda. Fuorigioco non esiste! Vabbè. 2 a 1, ovviamente. Si Diego... Rigore. C'è... Cizzo bello, però. Mi devi fischiare il fallo, eh. Si, Spissi. Si, Spissi. Spissi. Spissi! Mamma mia, che mina. Il portiere manco la presa. Allora, qui c'è la tattica, raga. Questa. Si, ho imparato a battere. Ho imparato a battere, raga. Non ci posso credere. I calci d'angolo. Bisogna darla, avete visto? Subito a quello lì. Che la mette nel secondo palo. Tanta roba. Tanta roba. Cile, mamma mia. Spissi, parti. Parti, Spissi. Top, bravissimo. Raga, teniamola. Raga, teniamola. Raga, raga. Mamma mia, i falli. Arbitro maledetto, i falli. Capitano? Bravissimo. Il capitano salva tutto, raga. Salva tutto. Sei tiri. Lui due, ridicolo. 39, possesso palla. A casa, a casa. Oh mio Dio, oh mio Dio. Numero. Raga, ma che falloso. Raga, qualcuno. No, 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 no. Ma non può tirar dalla giù e farmi gol, Barry. Dai, ma cosa? Se guardate dove ha tirato. Sì, però anche il mio portiere mitico si deve svegliare, raga, eh. Cioè, è inutile avere un portiere da 60 e passa e non ti para nulla. Beh, sì. Palo, non è vero. Non è vero, raga. Palo. Non è vero. Samba King, attenzione, mamma mia. Cattivissimo. No. Raga, fate i bravi. Fate i bravi. Fate i bravi. Il quadro della situazione ce l'ha il fenomeno. E si va in finale, raga. Si va in finale. Andiamo a chiuderla. Andiamo a chiuderla. Andiamo a chiuderla. Fallacci, maledetto. Che fallosità, raga. Ti sta bene. Ti sta bene per tutti i falli che mi fai. 5 a 2, raga. Vogliamo in finale. Fischi arbitro. Arbitro. Sì, ci siamo, raga. Dovremmo essere in finale. Dovremmo essere in finale. Pacchettino. Troviamo qualcosa di buono? No, raga. Non abbiamo trovato nulla. Un altro pacchettino. Ovviamente nulla abbiamo trovato. Anche il logo, comunque sia, del Brazil. Che bellissimo, eh. Raga, Brasile-Scozia. Scotland. Oh, mio Dio. Mamma mia. Repubblica seca, Inghilterra. Se quindi di là c'era tutta l'Europa e di qua tutto il Sud America. Wow, raga. Finale. Siamo in finale, raga. La Coppa del Mondo adesso, eh. Brasil. 783, raga. 783, lui. Oh, mio Dio. Non è forte. Non è forte, raga. Dai che vinciamo sta Coppa, dai. Vediamo la sua formazione, raga. Portiere forte. Eh, ci ha messi, raga. Ci ha messi. Centrocampo non è messo bene. Centrocampo non è messo per nulla bene. Maglie blu, verdi. Ok, così vedo bene. Eh, raga. Si può sentire dalla mia voce che è un pochettino paura, eh. Un pochettino. Vai, vai. No, spissi. Dovegli darla prima. Ce l'avevo creduto. Raga. What? Ma che giro palla strano è stato? Giro pizza. Attenzione, giro pizza. Grazie per il regalo. No, le ho ridata. No. Raga, come state giocando là in difesa? State attenti, eh. Si numero. Parti. Dov'è? 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 Raga, stiamo giocando troppo veloce. Non si sto capendo nulla. Ehi là. Ehi là. Eh, vabbè, ovviamente. Mia. Si numero. No. No. Raga, esci il portiere. Se raga, l'ho messa io la palla lì. Ma perché il portiere non è uscito? Guarda. No. Gioco buggato. No, no. Non è possibile che il portiere, raga, non mi usciva, eh. Cioè, dai. Gliel'avevo passata io, poi. Gliel'avevo passata io. Esci qualcuno. Mamma mia, raga, mamma mia. Fatemi vedere perché veramente la voce mi va via oggi, eh. Se raga, ingiustizia pura prima. Cioè, il portiere doveva uscirmi. Era un passaggio quello. No. Sì, vabbè, dai, dai, eh. Se io non ho parole, mamma mia. C'è la fortuna. Raga, dai, ma giocate meglio. Ma perché non riescono a giocare i miei? Cioè, o sto qui... Devo dirla. Raga, devo dirla. Devo dirla, però prendigliela, se no non riesco a dirla. Ecco perché è arrivato in finale. Ecco perché... Siamo ancora in piedi. Raga, ecco perché è arrivato in finale, comunque sia. È forte. Anche se non è un livello assurdo, è bravo a giocare. Non si può dire nulla della Scotland. Però può sesso palla più io, raga. Se ha fatto due tiri, due gol. Ma non è fattibile una cosa del genere, eh. Daie. Daie. Daie, Brazil. Daie. No, raga. No, che via. Via. Sium. Vai, Messi. Guardalo. No. Cos'è sta roba? No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Spisi. Non è vero, raga. Porti via. Arbitro, togliti. Mamma mia, che ansia, raga. Dai, parti. Ma perché non riesco? Raga. Mamma mia. Via, 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 via. Dov'è? Raga, non ci sto capendo nulla, vi giuro. Si, numer? Numerone? Numerone? Voglio non fargli il fallo. Palo. Numerone. Due, due. Silenzio. Calmi. Mamma mia, giusto così, raga. Per il palo, giusto così, eh. Ho preso palo, non mi ricordo nemmeno, raga. Non ci sto capendo più nulla, vi giuro. Bravissimo. No, no, vagli. Bravissimo, capitano. Sei un grande, sei un grande. Guardalo, guardalo, guardalo. C'è Diego, libero. C'è Diego, c'è Diego, c'è Diego. Palla, non è vero. In mezzo. What, raga, what? Non è vero. Oh, mio Dio. No, ma io mi devo dare una calmata. La mia testa esplode. Two. 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 Tre a due. Mamma mia. Raga, tre a due. Tre a due, raga, per la Coppa Suprema. La Coppa Sium Supremas. Vamos. Vamos, numer. Sì. Sì, sì, tiella, tiella tutta, tiella tutta, tiella tutta. Fallo tutto, fallo tutto, fallo tutto. Ottantanovesimo, raga. Ottantanovesimo, raga. Dai. Dai, fischia. Fischia, arbitro. Messi, dove vai? Raga, è finita. Fischia. Fischia, arbitro. Oh. Arbitro. Arbitro. Sium. La Coppa è nostra. Raga, la Coppa. Oh, mio Dio. È bellissima. Alzala, Dios. Perché se lo siamo meritati. Sium, raga. Mamma mia, che impresa. Che impresa, raga. Sta Coppa. Sta Coppa come brucia. Otto tiri. Tre gol. Lui quattro due. Possesso palla più io. Meritatissima. La Super Coppa Mondiale. Ciao, Scotland. Grazie mille. Mamma mia, raga. Mamma mia, come scotta. Vediamo i premi. Vediamo. Voglio godermeli tutti. Maglia del Brasile che avevo già. Cioè, se lo sapevo non giocavo col Brasile, eh. Pacchettini inutili che non troviamo nulla, raga. Hai vinto la Euro American Clash con la squadra Brasile. Complimenti. Grazie. Grazie. Ora proviamo a vincere di nuovo con una squadra diversa. e a raccogliere tutte le uniformi. Quindi adesso la Coppa se l'ho, ma bisogna vincere tutte le altre uniformi. Stop, raga. Fammi vedere sta Coppa. Chi se ne frega. Allora, sono passato 36esimo nella Lega Silver. È impossibile scalare su sto gioco, eh. Devi stare qui giorno e notte. Eccola qua, raga. Bellissima. Sei leggendari addirittura. Insieme alla Holiday's Cup, eh. Sud America Cup. Grazie. Grazie, raga. Grazie. Grazie per avermi fatto il tifo. Vediamo un po'. Risultati. Vinci 50 partite segnando almeno 5 gol. Mamma mia, un fenomeno. Un fenomeno, raga. Ce l'abbiamo. Tanta roba. Guardate quante missioni, raga. Addirittura sotto le missioni dell'Euro Cup. Vediamole. Euro Cup. Vinci con tutte le squadre. Ma come si fa? Una su 40. Cioè, quanto deve giocare uno? Dieci anni per vincere quella. Cioè, è impossibile, raga. Cioè, ho capito tutto, va bene. No, la maglia di Super Mario. Raga, la maglia di Super Mario. Bellissima. Euro Cup segna 5.000 reti. Poi due carte di The Dribble, dai, eh. Cioè, gioco. Ho capito che non vuoi darci le ricompense. Però non funziona così, eh. Raga, che dire. Abbiamo fatto la storia. Io mi prendo queste 5 gemme gratis. Direi che per oggi abbiamo fatto l'impresa. Da me è tutto. E ci vediamo. Alla prossima coppa. Ciao. 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 Ciao.